ciao ragazzi e bentornati sul canale io sono mess81 e siamo qui con il terzo episodio della serie call of duty infinity warfare che sta risquedendo diciamo un buon risultato ma ancora non ci siamo quindi condividete e mi raccomando con il like adesso andiamo a continuare la nostra campagna allora ragazzi ci eravamo lasciati proprio in questo punto siamo saliti appunto a bordo della retribution così da qui dal logo e siamo i nuovi capitani il nuovo capitano della retribution questi sono i ricercati che dobbiamo trovare durante la nostra avventura speriamo di trovarli tutti e di combatterli nel miglior modo possibile bene adesso andiamo ad affrontare la nostra prima missione da capitano capitano pronti al salto rotta inserita e vediamo cosa succede pronti signore ora è autorizzato ad attivare l'accensione adesso saltiamo bene perfetto pronti a saltare o il capitano ferran della tigris in linea passamela la tigris salterà appena fuori dall'area operativa beh dateci una mano almeno buon viaggio pronti capitano saltare allarmi collisione salto in 3 2 1 computer a fuoco settore 3 stato livello di precisione non livello di precisione non livello di precisione non ma ce la faremo ragazzi non vi preoccupate che ce la faremo salto in 3 2 1 la tigris è pronta bussiamo date il comando gator agli ordini tenente capitano ci vediamo in armeria la cosa è tutto a posto perfetto la squadra di Omar è al ponte di sbarco perchè questo assalto è guidato da Omar? operazione congiunta solda è il marin di grado più alto ma ti ha mancato di rispetto abbiamo ben altri problemi il sotto ufficiale Griff sta aspettando nell'armeria capitano? come messa? non bene signore guarnizioni partite valvole da sigillare tranquillo ce la faremo andiamo sono sempre io ok piuttosto scegliamo il suo equipaggiamento vediamo cosa scegliere vediamo vi metterei questo questo è un drone no scudo redattile no scudo personale vediamo vediamo cosa fa non voglio di schiuma vediamo po' se ci può proteggere questo intanto va bene penso che ci siamo ok io direi che possiamo andare perfetto aspetta mettiamo questo questo come merino questo questo è un bel zalla va bene così perfetto possiamo andare beh una bella arma sempre e comunque scateni l'inferno siamo tutti con lei speriamo di scatenare sto inferno ci manca tutto ma possiamo farcela da quando abbiamo le pezze al culo da circa un'ora attenzione forze di terra al ponte di sbarco ripeto forze di terra al ponte di sbarco andiamo poi qua che c'è il nostro amico non è bello essere promossi così no signore è l'uomo giusto per il comando che oltre riposi in pace e l'hangar ci vorrà un po' per ripararlo Ethan tu scenderai con noi ricevuto signore Brooks vi preparerà abitano Reyes scusate mi serviranno dei propulsori grazie di tutto toporale calma soldi sono calma Reyes benissimo veniamo al propulsore così siamo avvantaggiati spero potenziano salti e corsi sui muri più controllo a zero gravità non lo sapevi Ethan lo sapevo un sore connesso non trovo la voce del tenente rassicurante a bordo signore tenente hai visto la roba che ci prova Ethan è grande Ethan non è non è a posto bravo uno dietro a sinistra 70 tutti il soldato puoi salire 18 signore più i nostri ufficiali e la latina i tuoi ordini drone sono assegnato al capitano e sono un androide e non un drone ma apprezzo l'umorismo signore non chiamarmi signore latina tenga d'occhio il robot o lo butto nello spazio so di cosa sono capaci non sarà necessario sergente Ethan occhio agli ordini veicoli al completo capitano nessun problema non gli serve un sedile salta su Ethan reggeti forte si tenete su andiamo grande Ethan è l'unico che ci può salvare mi sa spostati robot occhi sulle vostre interfacce non lo ripeterò il gateway lunare è attualmente sotto sedio per difenderlo la retribution manderà due squadre alfa e bravo uno e due l'obiettivo primario è riprendere il porto hurra hurra tigris mi ricevete ci siamo affermativo fuoco nemico intenso dobbiamo inserirci subito aprite il ponte di smarco bene inizia la missione e speriamo che ce la capiamo pronti Gator usciamo 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 alfa buon istrutto alfa 1 ok Gator andatemene retribution in uscita il termine è assurdo sergente non mi servono le tue coordinate contatto latto destro colpito guarda vaffan gol ok è il primo è andato ricarichiamo beh direi un parcheggio perfetto tutto bene benissimo ottima guida sergente spostati prepariamoci e prendiamo il terminal rispediamo il set da dove è venuto nella sezione è isolata mortellone d'emergenza aperto passeremo di là regruppiamoci benissimo andiamo e vediamo sta missione definirla il prima possibile ok vabbè forza dai ragazzi dai vc in zona tutte le squadre occhi aperti forza forza è stato ok scurriamo il muro per attraversare scurriamo il muro perfetto perfetto adesso andiamo a prendere dove stai dove è finito stai con me recuperiamo perché sennò facciamo una brutta fine dove stai ma necca vaffanculo ecco tenderebbe volare la bomba me la due eh vaffanculo stiamo spazzando via oh scendiamo due granate che ci possono servire andiamo avanti ok ok prima primo piano ora 11 ecceziona che le spano la droga vuole difendere dai attaccate 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 ah vai venne qua venne qua venne incariciamo un po' di vita Sì, 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 sì Ok Ok, io devo provare Ok, io devo avare Ok 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 una bella granata da qua e una da qua stop ok oh oh sconde no no ando dove ando dove ando dove ando in serio ando in serio oh hai ragione scusa scusa ho fatto prendere la fuga stiamo bloccati dobbiamo cercare di uscire ok cercare di uscire perché ok ok eravamo bloccati fangolo vai no non basta lagi coer scusa che oh che lua non è già lua ok ok Dio che c'è? Noi che c'è? Prendiamo un po' di mezzo Prendiamo andare qua Dove? Dio che è? Madre c'era Non è vero Mentre ci sono E' un po' di mezzo Beh senti Cosa Ma come Quattro Cosa Quattro 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 eh che palla oh questo ci può servire benissimo andiamo andiamo a salvare la guardia costiera proviamo ad alzare sala c guardia costiera in arrivo alfa guardia costiera 1 stiamo per arrivare ok 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 oh ma dove è adesso eh buone vediamo le manizioni a casa no oh no un altro ecco 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 o che spiegati un po' che efficace questo ok i nostri sono dietro la porta andiamo a stare magari, mi sembra abbastanza interessante il terminal è sicuro dietro di noi, evacuate i feriti benissimo, madonna mia quando i feriti andiamo 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 scattiamo dove si vanno a casa tutti i nevoli? bella lecchia oh oh anagio a posto stiamo perdendo pure ossigeno non possiamo fare nulla oh grande etan grande corri 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 vai vai dai 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 che ci facciamo quasi ci siamo quasi siamo riusciti oh mi è mancato un pelo dai io sono riusciti io sono riusciti io sono riusciti io sono riusciti vediamo che armi hanno ok questo è il nostro arsenale servitevi pure grazie soldato fucili, mitragliatrici ci voleva capitano queste granate sono efficaci contro il robot ecco tenetele alla larga da me qui c'è un terminale di potenziamento ok questa mi sembra che ho capitano le granate elettriche le prendo a posto possiamo andare perfetto ci siamo lo scudo l'ho perso cambia l'interesse andiamo bravissimo andiamo a chiudere questa faccenda qui abbiamo troppellati in contatto contatto con bravo blu kajima stato attuale siamo dietro di voi arrivano i rinforzi andiamo ci sei ore undici che c'è treppo bravo cecchino Perfetto Oh ma l'occhio eh Dopo avrai la testa oh ma No ma ne so Vieterete tra le altre granate Ok Ok Guarda che bella questa No la qua Questa va Ok Sì Sì Guarda che bella Perfetto Prendiamo da qua Così Prendiamo da qua Prendiamo un po' di emozioni Ok Ok C'è un po' di emozioni Dove sono C'è un po' di emozioni Oh ma l'occhio Oh ma l'occhio Oh ma l'occhio Siamo da qua Vediamo se questo c'è un merino Ok Ci siamo Dove stanno tutti Oh Oh Ok Siamo facciate C'è un po' di emozioni C'è un po' di emozioni C'è un po' di emozioni È un po' di emozioni Oh Ok Oh Ok E' morto Ferito e morto Ma da dove sparano? Madonna mia Ok Perfetto Ci è mancato poco che ci facevano fuori Ma ce l'abbiamo fatto Ok 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 Andiamo Mi raccomando eh Quali sono i miei ordini? Vieni con noi Signor sì Omar Consulter Ethan tu stai con me Non è un'ercizazione Molly il robot Prenda un marino Ho già deciso Apprezzo la fiducia Prendiamo il fuoco Tranquillo Ethan Bene ragazzi Direi che per oggi Può finire qui la nostra puntata Mi raccomando Fatevi sotto con i like E condividete il video con tutti Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto E ci vediamo Alla prossima puntata Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao